Salve a tutti, oggi ho avuto veramente una visione spaventosa, ho ascoltato la musica Tecno Music May 2019 Club, mi sembra il si chiami, e ho avuto sempre le mie visioni futuristiche. Dunque, praticamente era una discoteca del futuro alluscinante, c'erano sempre questi schermi spaventosi che sembravano acquari, praticamente questi schermi sono pieni di liquido, come se fossero tanti acquari, una discoteca piena di acquari spaventosi, ma non sono acquari, sono schermi, e tu vedi l'altro ballare come se fosse dietro a uno schermo, ma in realtà non c'è, e lo vedi come imprigionato in un acquario. E poi ho visto dei ragazzi che dovevano coprirsi, non solo con la mascherina, ma tutta la testa, tutto il capo, si vedevano tipo la maschera, quelle antigasse, e si vedeva che avevano il voto ustionato, che tutti avremo il voto un po' ustionato da, non lo so che cosa faranno, e si avranno solo, si avranno ancora le mascherine, ma metteranno tipo delle maschere antigasse, cioè che si vedrà solamente gli occhi e la pelle sarà come ustionata, non lo so, io ho visto una cosa del genere, e ho visto che ballavano in un modo che si dimenavano con le mani, facevano un po' così, cioè io vedo sempre questi schermi, e addirittura vedo questo schermo in terra, praticamente una discoteca, e si vedono i ragazzi ballano in terra, sotto suolo, ma non ci sono, è come una televisione, non sono lì, tu sei lì, e sembra che ballino con te, ma in realtà sono al di là dello schermo, cioè ma delle visioni inquietanti, cioè veramente, e non so dove si andrà a finire, e queste sono visioni di un futuro allucinante, e mi dispiace dirlo, avremo le mascherine tipo antigasse, se voi vedete anche quel cavallo blu che c'è in Arizona, non mi ricordo dove, insomma in un corso americano, che si vede una cosa, qualcosa del genere, insomma, no? Queste maschere antigasse, non so cosa può succedere, non so cosa ci inietteranno, che avranno tutto il viso sciupato, e gli toccherà mettersi questa mascherina, tipo antigasse, vabbè, è così.